Ragazzi, ho trasformato il mio iPhone in un iPhone X E bella a tutti ragazzi, oggi voglio parlare di un qualcosa che mi frullava nella testa da un po' di giorni Infatti ragazzi sono riuscito, diciamo, tra virgoletti, tra tantissime virgolette, a trasformare il mio iPhone in un iPhone X Il mio iPhone è diventato praticamente un iPhone X Per fare questo ragazzi ho creato un'immagine, diciamo, ho fatto uno screen semplicemente del telefono su Photoshop Dopo l'ho importato appunto in Photoshop e ho creato, diciamo, il design di iPhone X Ho preso ovviamente anche da internet lo sfondo di iPhone X e tutto questo ragazzi sarà disponibile al download sotto in descrizione Quindi ragazzi lo potrete fare anche voi Ovviamente dipende da che iPhone avete Diciamo che questa cosa si può fare dal 6 in su Quindi 6, 7, 6S, 8 e 7S perché si doveva chiamare 7S l'8 Quindi lo chiamerò 7S E ragazzi questa è una cosa veramente bellissima perché possiamo, diciamo, riprodurre tutto il design E anche abbastanza fedele sul nostro iPhone Come ho visto nel video di Blackchip Tutorial Lui diceva che praticamente hanno creato questo programma sui dispositivi Android Che ti mette appunto la barra T Stone dagli angoli Ma non sarà mai fedele perché tutto questo si deve vedere su un dispositivo iOS E ragazzi diciamo che con questa feature possiamo avere la barra, questa piccola orecchia anche nel nostro dispositivo Allora ragazzi apro una piccola parentesi Questo è il file di Photoshop Voi praticamente potete, diciamo, creare il vostro sfondo Praticamente vi basterà aggiungere una qualsiasi immagine sotto il livello 1 Ad esempio io importo un'immagine Io ad esempio importo questa immagine Ovviamente la dobbiamo ridimensionare Così Diamo ok E ragazzi come vedete ci rimangono le linguette e gli angoli stondati Quindi ragazzi mi raccomando usate bene il file Il file ovviamente è sotto in descrizione Ve lo ricordo Ragazzi è un video corto perché oggi come sapete è venerdì E ragazzi martedì uscirà un video davvero speciale sulla soundbar E molti me l'avete chiesto anche su Instagram Quindi ragazzi No ovviamente ci rivediamo Ad un prossimo video Bella Ciao Ciao